Ciao a tutti, sono Marisa. In questo tutorial proverò a modificare i menu della pagina web. Per far questo utilizzerò la finestra di ispezione di Google Chrome che mi permette di vedere in anteprima le modifiche di stile. Per cominciare farò clic destro nella barra di navigazione sinistra e scelgo Ispezione elemento. Come possiamo vedere dal codice HTML WordPress crea la barra di navigazione utilizzando una lista non ordinata. Infatti qui vediamo il tag All, Unordinated List e i singoli elementi lì costruiscono ciascun menu personalizzato. Infatti cliccando su lì vediamo che viene evidenziato un menu sul lì successivo all'altro menu e così di seguito. Quindi è proprio su questi due tag che dobbiamo apportare delle modifiche per ottenere un menu diverso e magari più accattivante dal punto di vista grafico. Inizio creando uno spazio tra il menu personalizzato e il margine sinistro del contenuto della pagina così come avviene per la barra di destra. Quindi clicco su All poi ci spostiamo nella parte dove è presente il codice CSS e modifichiamo il margine invece di 0 possiamo scrivere 5 pixel e otteniamo l'effetto voluto. poi ci spostiamo sul tag lì e inseriamo un bordo intorno a ciascun menu personalizzato quindi clicco nella parte del foglio di stile utilizziamo Border Invio il bordo deve essere spesso un pixel deve essere contratto continuo quindi solid per il momento premo Invio se non specifico il colore di default viene utilizzato il colore nero come il solito quando modifichiamo un elemento che è caratterizzato dall'attributo del colore in questo caso voglio utilizzare lo stesso colore della top bar quindi vado a selezionare la top bar ispezione elemento mi copio il colore utilizzando CTRL C vado di nuovo sull'elemento lì e inserisco il colore alla fine del tag border spazio e CTRL V per incollare per migliorare la situazione voglio staccare un menu personalizzato dall'altro a questo scopo inserisco un margine inferiore quindi margin bottom invio 5 pixel credo che dovrebbe bastare sì miglioriamo ancora costruendo dei border rotondati border radius lo cerco nella lista che compare invio invio anche qui 5 pixel volendo si potrebbe aumentare scrivere 10 pixel proviamo ma secondo me è eccessivo 5 pixel è perfetto a mio avviso miglioriamo ancora inserendo un'ombreggiatura nei titoli dei menu quindi clic destro ispezione elemento ecco viene selezionato l'elemento e vediamo che i titoli dei menu sono inseriti nel tag H2 ci spostiamo nel codice CSS e inseriamo un'ombreggiatura grazie al tag text shadow lo cerchiamo eccolo qua bene invio poi il primo parametro dovrà essere lo spostamento orizzontale dell'ombreggiatura credo con pixel vada bene il secondo è lo spostamento verticale già è possibile vedere in anteprima che compare un'ombreggiatura è però netta non è per niente sfumata ora inserisco la sfumatura e di seguito il colore dell'ombreggiatura cercando di schiarirlo un po' rispetto a quello che viene evidenziato in anteprima provo con un colore molto chiaro quindi cancelletto F F F che è il bianco invio e poi provo anche a modificarlo magari scegliendo un grigetto ancora un po' più scuro però non troppo scuro forse ancora poco poco e questo mi soddisfa abbastanza invio bene credo che come prima modifica ecco prima creazione di menu personalizzati con uno stile grafico questo possa andar bene ora vediamo come salvare queste modifiche che sono state apportate in anteprima clicchiamo sul collegamento al foglio di stile e possiamo notare che le modifiche sono state apportate sia nel foglio stile underscore viola punto css e anche nel foglio stile punto css come possiamo vedere se i fogli di stile sono stati modificati semplicissimo quando compare questo asterisco vuol dire che il foglio di stile è stato modificato allora clicca all'interno del foglio stile css ctrl a per copiare il codice no per selezionare il codice scusate ctrl c per copiarlo vado nella parte amministrativa che già ho aperto quindi scelgo aspetto editor si apre di default il foglio di stile css comunque se in ogni caso per aprirlo basta scendere nella pagina e fare clic su foglio di stile css entro all'interno di questo spazio ctrl a per selezionare ctrl v per incollare e clic su aggiorna file ritorno nell'altra scheda seleziono stile viola entro nel testo ctrl a per selezionare ctrl c per copiare seleziono la scheda dove già è aperta la parte amministrativa scendo giù nella finestra e seleziono e seleziono stile viola punto css clic all'interno di questo spazio ctrl a per selezionare tutto il codice ctrl v per incollarlo clic su aggiorna file vado sulla scheda dove è possibile visualizzare la grafica del sito posso chiudere la finestra di ispezione che non serve più aggiorno la pagina e tutte le modifiche sono state apportate bene arrivederci al prossimo tutorial e grazie per quelli che lo visualizzeranno e grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti grazie a tutti